Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Nel video di oggi andremo a vedere quali sono le migliori scarpe da calcio per qualità prezzo che potete trovare sulla web di Football Emotion. Andiamo! Ebbene sì ragazzi, avete sentito benissimo. Oggi andiamo a vedere quali sono le 5 migliori scarpe da calcio per qualità prezzo. Non è un top 5, quindi direi di iniziare subito con la prima. Una scarpa da calcio che non vi ho mai portato, stiamo parlando delle New Balance Classic 442. Perché vi ho portato questa scarpa da calcio? Beh, è una scarpa da calcio abbastanza classica, come potete vedere sia dalla linguetta con un pezzo di velcro che potete così fissare sulla zona dei lacci, ma soprattutto perché la tomaia è una tomaia in pelle naturale con delle cuciture che faranno sì che la scarpa da calcio si adegui perfettamente al vostro piede. Ma soprattutto ragazzi, per la qualità che hanno, non costano neanche troppo perché sulla web di Football Emotion la potete trovare intorno ai 100-110 euro. Ragazzi, anche qui una suola abbastanza classica con dei tacchetti conici che andranno benissimo in tutti i tipi di campi e ragazzi per 110 euro avrete delle ottime scarpe da calcio che escono un pochino dalle solite Nike o Alja. Prossima scarpa da calcio, un grande classico e stiamo parlando delle Copa Mundial ragazzi delle scarpe da calcio che conoscerete tutte, le scarpe da calcio più iconiche di sempre tutti abbiamo utilizzato almeno una volta questo scarpino e sulla web di Football Emotion attualmente la potete trovare intorno anche qui ai 110 euro. È una scarpa da calcio che conosciamo tutti, quindi una tomaia in pelle morbidissima anche qui con delle cuciture, con una linguetta super super classica con dei lacci ragazzi lunghissimi, forse è la cosa peggiore di questa scarpa da calcio ma di fatti non capisco perché Adias continui a farli così tanto lunghi e ragazzi la suola la conosciamo tutti. Seconda scarpa da calcio in pelle che troviamo oggi però assolutamente ve la consiglio anche perché ora attualmente sulla web di Football Emotion costa intorno ai 110 euro. Passiamo alla prossima scarpa da calcio ragazzi in questo caso troviamo una scarpa da calcio di gamma elite quindi di gamma alta e stiamo parlando delle Adidas Predator Freak .1 Perché vi ho portato questa scarpa da calcio? Quindi perché secondo me è tra le migliori per qualità prezzo? Beh perché è una scarpa da calcio di gamma alta che attualmente la potete trovare intorno ai 150 euro un prezzo ottimo per la scarpa che è e voi vi starete chiedendo Lori ma perché? Perché costa così poco? Beh molto molto semplice perché una settimana fa, circa due settimane fa è uscita la nuova generazione di Predator e ovviamente Adidas non interessa più pubblicizzare questa scarpa da calcio quindi abbassate i prezzi tantissimo però è comunque una scarpa da calcio che a livello funzionale è ottima ragazzi quindi se volete spendere un pochino di più e volete una scarpa da calcio di gamma alta le Predator Freak fanno il caso vostro Quarta opzione ragazzi voglio portare le Umbro Speciali delle scarpe da calcio che assomigliano abbastanza a livello tecnologico se parliamo delle New Balance e delle Coppa Mundial che abbiamo visto prima però costano un pochino di più intorno ai 130 euro sulla web di Football Emotion questo perché? Beh per due principali motivi forse tre ovvero la tomaia in pelle naturale ragazzi è super super morbida secondo me a livello qualitativo è migliore rispetto a New Balance a Coppa Mundial non ne sono sicuro perché è tra le mie scarpe da calcio preferite inoltre ragazzi abbiamo dei lacci che non sono per niente ingombranti quindi qualcosa di positivo rispetto ai lacci delle Coppa Mundial e la linguetta ragazzi anche questa molto classica però molto meno ingombrante rispetto a Coppa Mundial quindi rimarrà fissata molto più facilmente e inoltre ragazzi a livello estetico mi sembra una scarpa da calcio spettacolare guardate anche la suola anche qui molto molto classica però ragazzi questa scarpa da calcio mi sembra una bomba e inoltre la potete trovare sul level di Football Emotion intorno ai 130 euro che non è troppo concludiamo con delle altre scarpe da calcio Adidas in questo caso le Copa Sense.2 come avete visto la tendenza è le scarpe da calcio in pelle perché costano meno beh perché attualmente non è che si utilizza ne do più però sinceramente penso che siano molto valide di fatti io preferisco le scarpe da calcio in pelle rispetto a quelle che vediamo attualmente cosa troviamo nelle Coppa Sense.2? beh una scarpa da calcio in pelle non naturale ma sintetica però comunque fa abbastanza bene il suo lavoro ovvero di essere una tomaia molto morbida che apporta tantissima ammortizzazione soprattutto grazie ai sense pods quindi questi cuscinetti che quando entreremo in contatto con il pallone ci aiuteranno davvero tantissimo una suola che è identica rispetto a quella della generazione di gamma alta e ragazzi una scarpa da calcio che trova i lacci quindi troviamo una scarpa da calcio molto comoda abbastanza leggera che potrete trovare anche qui sulla web di Football Emotion intorno ai 100-110 euro bene ragazzi vi ho presentato quali sono secondo me le migliori 5 opzioni in scarpe da calcio per qualità prezzo fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e quali sono le vostre preferite come avete visto e come vi ho già detto prima la tendenza è un pochino quello delle scarpe da calcio in pelle perché quelle in materiale sintetico costano un pochino di più sono un pochino più moderne però sinceramente ragazzi a me piacciono davvero tantissimo se vi è piaciuto il video lasciate un like commentate e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao